Non è possibile che abbia fatto tutto da solo. Le forze di polizia di Las Vegas ne sono convinte e proseguono le indagini su Stephen Paddock, il killer che sparando da una suite del Mandalay Bay Hotel ha ucciso 59 persone e ne ha ferito centinaia. Intanto a Washington si incrina il muro eretto a difesa della libera circolazione delle armi da fuoco, un muro finanziato dalla lobby dei costruttori e commercianti di armi che nelle sole elezioni del 2016 ha versato nelle casse repubblicane più di 5 milioni e mezzo di dollari. In particolare per la prima volta si ammette anche da parte di importanti parlamentari conservatori la necessità di porre un limite alla vendita del cosiddetto Bump Stock, il dispositivo che moltiplica la velocità di tiro delle armi semi-automatiche trasformando un fucile in un mitragliatore capace di sparare 800 colpi in un minuto. Costa solo 100 dollari, la vendita è libera ed è stato trovato montato su 12 delle 23 armi portate da Paddock nella suite del Mandalay Bay. Suite gratuita per lui, frequentatore abituale dell'hotel e assiduo giocatori di videopoker. Nessuna certezza sul movente, non c'era alcun segnale che potesse fare una cosa del genere, ha dichiarato la compagna del killer, ma dall'inchiesta emerge che avrebbe pensato anche ad un attacco a Boston e forse all'uso di un'autobomba e che all'inizio di agosto aveva prenotato due stanze in un hotel di Chicago, dove era in programma un festival musicale con 400.000 spettatori. In quell'albergo non si presentò Chelsea Las Vegas, dove nei soli primi 30 secondi di fuoco ha scaricato sulla folla 400 colpi.